Oggi la giornata è passata così, quando ora è che sei nì? Lascia me stai Quelle giornate in cui non devi dire niente No, perché sembra che avviene Però il risultato finale non è come quello che voglio io È la quarta volta che faccio questa cosa Però Claudio è sempre vicino, ha sempre la mano Sempre, sempre tra i piedi Oggi va così Pure questa, non è come... Già lo vedi Guarda qua, abbi il coraggio di dirlo a tutti quello che ha detto a me Lascio perdere Basta, mi ha detto che non cucina più Ritorna a fare il sapone Basta, da influenza di cibo a influenza di sapone Ma anche no Lo fai solo così Ma ora mi sono finita le uova Stasera le cose che ho detto per forza, non ce l'ho più Che ore so? Le 9? Le 9, le 9 e 5 E da stamattina che... Che sto qua a fare la guerra con questa cosa che fa la fine alla spunto Perché io ho una chiara in destra Ma io sono sicuro che c'è qualcuno che ti può intenerire Uno gnomo E' una volta che mi dice che avevo bisogno Uno gnomo Perché lui sì che è un casa nuovo Che mi dice che ce l'ho Che ce l'ho a fare una ricetta Che ce l'ho Uno gnomo Che poi ora fa una piccola polemica sterile Aspetta Ora ti spiego qual è la polemica Che praticamente Ora adesso è uscita fuori Che ce l'ho a dire una battuta durante lo spot Capito? Tutti quanti Ah che ce l'ho a dire una battuta sola Che hai detto Che hai fatto? Ma che è facile? Ma che non è facile? Ma che non è facile